Pesante battuta d'arresto per il Macchi della Gela nell'anticipo della diciannovesima giornata del campionato di promozione Gironi D. Al Presti passa nettamente la Ragusa di Mr. Utro grazie alle reti tutte nella ripresa di Sella, Ferrante e Gomez. Secondo tempo dunque da dimenticare per i biancorossi di Mr. Fauciana che dopo aver trovato meritatamente la rete del vantaggio con Castania nel primo tempo e aver sfiorato più volte la rete della raddoppio, nella seconda parte del match hanno subito il ritorno in partita dei ragusani che hanno portato a casa i tre punti in maniera netta e meritata. Nemmeno le strigliate a bordo campo dell'allenatore Fauciana sono servite a far svegliare gli undici in campo rimasti con la testa nettamente negli spogliatoi. Per gli aquilotti così una brutta involuzione dopo la bella vittoria nel derby contro l'altretico Gela. Biancorossi adesso attesi dalla difficile trasferta in programma domenica prossima contro la capolista Nissa. Una macchinata che non è scesa letteralmente in campo nella seconda frazione di gioco. Sì, i ragazzi nel secondo tempo ci hanno in un certo senso abbassato il ritmo della partita e alla prima occasione ci hanno punito, anche perché sappiamo il valore degli avversari, un valore buono per la categoria, allenati bene da Mr. Utro. Niente, sapevamo che sui calli di concentrazione la pagavamo e i ragazzi purtroppo di questo ne devono fare esperienza e tesoro. Significa che dobbiamo lavorare in settimana per essere sempre più concentrati e determinati. Le strigliate servono a poco, anche se comunque voglio dire, ragazzi, quello che danno danno sempre il massimo, sia quando perdono sia quando vincono. Quindi io non posso rimproverare nulla perché veramente danno sempre il massimo, il 100% e se oggi abbiamo perso in merito va anche agli avversari che sono stati più bravi di noi. Grazie a tutti.